Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Sara Rocco, logopedista e psicomotricista dell'Istituto di Ortofonologia. Oggi vi parlerò dell'impiego dell'olofonia nella terapia con i bambini che presentano il disturbo dello spettro autistico. Il dottor Bianchi ha avuto l'intuizione di utilizzare l'olofonia nella pratica clinica come strumento di integrazione sensoriale per affrontare le difficoltà presenti nei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento e successivamente la dottoressa Di Renzo ha avuto l'idea di impiegarla anche nella terapia dei bambini con autismo. L'olofonia è un prezioso strumento logopedico per favorire l'attenzione all'ascolto e una migliore strutturazione linguistica. È una particolare tecnica di registrazione e riproduzione sonora che viene eseguita attraverso uno speciale microfono denominato olofono che permette di riprodurre un suono in modo simile a come viene percepito dall'apparato uditivo dell'uomo. Il suono non si percepisce più sui padiglioni delle cuffie o nell'arco stereofonico classico ma addirittura fuori dalla testa quasi nelle esatte coordinate spaziali di registrazione. Per ascoltare gli stimoli sonori è necessario indossare le cuffie e questo consentirà la tridimensionalità dell'ascolto e la direzionalità del suono permettendo quindi la localizzazione spaziale. Ciò permetterà al bambino di essere immerso in un bagno sonoro avvolgendolo in una motivante esperienza sensoriale favorendo un ascolto a tutto tondo nel suo valore simbolico oltre che percettivo. Non c'è un'età bensì una condizione possibile in cui scegliere di usare l'olofonia ed è il terapeuta a valutare in base alla disponibilità del bambino e alle competenze raggiunte se proporla e come usarla perché l'olofonia è generativa come il linguaggio. All'interno del cofanetto troverete la chiavetta usb che inserita nel computer permette l'avvio del programma mostrando la schermata iniziale, il menu dal quale poter scegliere lo stimolo sonoro che si decide voler far ascoltare al bambino in cuffia quindi si può scegliere la modalità di lavoro e come vedete nella slide ci sono diverse figure. Io ho evidenziato in grassetto quelle maggiormente proposte ai bambini con disturbo dello spettro autistico nei nostri setting di terapia. L'ascolto olofonico vi dicevo prevede l'utilizzo delle cuffie per riuscire a riprodurre le varie localizzazioni spaziali ma quando si lavora in un gruppo numeroso o nei casi di rifiuto ad indossare le cuffie gli stimoli sonori si possono ascoltare anche in campo libero attraverso le casse. In questo modo i bambini saranno liberi di muoversi nello spazio che diventerà così uno spazio ascoltato agito integrato quindi un motivante contesto operativo condiviso in cui è possibile il verificarsi dei vari passaggi evolutivi della rappresentazione mentale. Nelle prossime slide vi mostrerò cosa compare cliccando sulle finestre evidenziate in grassetto che sono appunto le favole gli stimoli sonori il gioco dello schema corporeo e la schermata fonemi e sillabe che vi dicevo essere quella particolarmente usata da noi logopedisti nei setting di terapia con i bambini del disturbo dello spettro. Questa è la schermata delle favole olofoniche alcune sono adatte ai più piccoli come i tre porcellini altre come quella di Pierino e il lupo sono più lunghe e complesse adatte dunque ai bambini più grandi e linguisticamente più competenti ciò non toglie che è possibile ascoltarle entrambe. L'ascolto in cuffia delle favole olofoniche promuove nel bambino obiettivo come l'attenzione all'ascolto la comprensione la memoria il linguaggio il racconto ma per facilitare tutto questo prima dell'ascolto si possono ritagliare le immagini dei personaggi della storia in modo da poterli muovere nell'ambiente animando l'ascolto prima e il racconto dopo infatti nel cofanetto visto nella prima slide oltre alla chiavetta usb e al manuale teorico operativo ci sono anche gli allegati ovvero i fondali cioè gli ambienti delle favole sonore e i personaggi quindi tutto il materiale grafico da poter ritagliare insieme ed incollare su un cartoncino facendo muovere e parlare i personaggi favorendo in questo modo la rielaborazione orale di quanto ascoltato in cuffia le favole olofoniche dopo essere state ascoltate in cuffia possono essere rielaborate non solo a livello orale e grafico ma anche a livello attivo e costruttivo ad esempio dopo aver ascoltato la favola olofonica dei tre porcellini con delle scatole di carta si possono realizzare le casette di paglia di legno di mattoni coinvolgendo il bambino nella trasformazione della scatola in una casetta abilità che sappiamo promuovere abilità come come dire abilità manuali e prassiche ma anche flessibilità cognitiva e capacità adattiva spesso carenti nei bambini con disturbo dello spettro autistico. Aprendo la schermata degli stimoli sonori troviamo l'elenco scritto di alcuni animali e macchine e attrezzi il terapeuta seleziona e decide cosa inviare in cuffia al bambino questa schermata permette di lavorare non solo sull'ascolto e riconoscimento dei versi degli animali o dei rumori ambientali ma anche soprattutto sulla comprensione delle diverse categorie semantiche. Inoltre specialmente nei bambini più piccoli i versi degli animali ascoltati in cuffia evocano una risposta emozionale e un risveglio attentivo e i versi degli animali ascoltati in campo libero permettono al bambino di muoversi nello spazio. In questo caso la rialaborazione dello stimolo ascoltato diventa attiva perché il bambino può drammatizzare e mimare posture e andature degli animali coinvolgendo così tutto il corpo. In questo modo il bambino diventa agente e non più agito. E poi in base all'età, alla disponibilità e alle competenze raggiunte il terapeuta decide se proporre anche una rappresentazione iconica e simbolica dello stimolo sonoro precedentemente ascoltato. Nella schermata degli stimoli sonori si trovano anche gli strumenti musicali che solitamente piacciono e coinvolgono l'attenzione del bambino e ciò consente di lavorare sull'ascolto e il riconoscimento dello strumento musicale e del suono, ma permette anche un'esplorazione attiva dello strumento musicale perché alcuni di questi strumenti raffigurati nella schermata sono presenti nei nostri setting di terapia, nelle case e anche nelle scuole dei bambini. Inoltre nella favola olofonica di Pierino e il lupo, adatta ai bambini più grandi, ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale che è possibile ascoltare in cuffia e in campo libero mostrando l'immagine degli strumenti anche meno conosciuti come l'oboe o il fagotto e il corno inglese che nella favola di Pierino e il lupo rappresentano rispettivamente il nonno e il lupo in modo anche da poter associare il suono dello strumento musicale al personaggio della favola. Aprendo la schermata del gioco dello schema corporeo, in ordine appaiono nella colonna verde le parti del corpo, nella colonna rossa gli accessori e l'abbigliamento, in quella celeste gli aggettivi e nella colonna bassa gialla i personaggi. Il terapeuta seleziona l'etichetta verbale da far ascoltare in cuffia al bambino, invitandolo poi a rielaborare lo stimolo, tenendo sempre conto del momento evolutivo in cui il bambino si trova e avendo in mente quali sono gli obiettivi pensati e prefissati per quel bambino. In base a ciò il terapeuta può decidere se far ripetere al bambino la parola ascoltata in cuffia o indicare su se stesso o su un'immagine le varie parti del corpo, disegnarle fino a completare lo schema corporeo intero, ottenendo così la figura umana di un bambino, di una bambina, di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna, che sono proprio i personaggi presenti nella colonna bassa gialla. Inoltre il terapeuta può combinare insieme due parole, quindi inviare due stimoli in cuffia, prima uno e poi l'altro, ad esempio pantaloni e verdi, chiedendo poi al bambino di disegnare i pantaloni verdi o di scegliere tra tanti colori, il verde proprio per colorare il pantalone raffigurato graficamente. Il gioco dello schema corporeo può agire contemporaneamente sull'organizzazione linguistica, psicomotoria, grafica e simbolica a seconda degli obiettivi e delle modalità adottate dal terapeuta. Questa è la schermata aperta di fonemi e sillabe, che permette di far ascoltare al bambino i suoni alfabetici, semplici e via via più complessi. Attività utile da un punto di vista logopedico per lavorare sull'ascolto e il riconoscimento del fonema e della sillaba, utile a promuovere la corretta articolazione dei suoni del linguaggio, ma anche funzionale all'apprendimento della lettoscrittura, perché consente di lavorare sull'integrazione degli stimoli a livello uditivo e visivo, favorendo così l'associazione fonema-grafema. Ma soprattutto, in caso di bambini con disturbo dello spettro autistico, questa attività diventa preziosa per favorire nel bambino una migliore integrazione a livello sensoriale, perché spesso questi bambini presentano sensorialità integre, ma non integrate. E a tale proposito, prima di mostrarvi le slide in cui compaiono attività e disegni svolti dai bambini nei nostri setting di terapia, vorrei fare un breve accenno alle alterazioni tipiche presenti nei disturbi dello spettro autistico e all'evidenza di alcuni segni clinici, che è bene che il terapeuta conosca per imparare a gestirli nel setting, perché solo in questo modo saprà cosa è opportuno proporre, in quanto l'olofonia è uno strumento prezioso, ma va saputo usare in modo flessibile e creativo. Nel disturbo dello spettro autistico sono presenti alterazioni qualitative dell'interazione sociale e della comunicazione, sono presenti comportamenti, interessi ed attività ripetitive, ristrette ed insolite e tale compromissione comporta nel bambino delle atpie emotivo-comportamentali, ma anche difficoltà in ambito cognitivo e linguistico. Il bambino con disturbo dello spettro autistico a volte vive l'esposizione alla comunicazione verbale come un bombardamento di stimoli, informazioni e messaggi dal quale difendersi, attuando comportamenti di rifiuto ed evitamento. L'invio in cuffia dello stimolo olofonico permette di evitare il sovraffollamento e lo stress relazionale, promuovendo così l'attenzione all'ascolto e una migliore disponibilità verso la richiesta. Altre volte invece, a causa della sua alterata sensorialità, il bambino non accetta di indossare le cuffie perché a livello uditivo è presente una ipersensibilità nei confronti del rumore, segno clinico evidente quando il bambino è solito tapparsi le orecchie. In questo caso è da preferire l'ascolto in campo libero, ma sarà dunque compito del terapeuta osservare e capire quale modalità adottare. Sarà compito del terapeuta saper sostare sull'aggancio corporeo e sull'ancoraggio a livello psichico per stabilire quel luogo d'incontro in cui l'attenzione diventa condivisa e solo allora è possibile fare un chiaro e significativo riferimento linguistico. Nei nostri setting il lavoro sulla corporeità e sulla sensorialità è fondamentale perché favorisce la sintonizzazione emotiva prima e attentiva dopo, funzione propedeutica all'ascolto e sappiamo bene che l'ascolto non è solo udito ma è tutto ciò che riusciamo ad apprendere attraverso l'integrazione degli stimoli che ci provengono dai nostri sensi. Giordano, il bambino che vedete steso a terra, quel giorno non aveva voglia di sedersi al tavolo e fare le lettere sul quaderno e per protesta, come chiaro atteggiamento di rifiuto ed opposizione, si era sdraiato per terra. Così le lettere sono andate da lui. Con lo scotch carta ho disegnato sul pavimento la V, la P e la F, fonemi che confondeva perché ancora non interiorizzati e poi gli ho chiesto di rimanere esteso per terra ma di indossare gentilmente le cuffie. Richiesta accettata da Giordano, rimasto un po' stupito dal mio agito, ma superato il rifiuto iniziale, il primo ascolto in cuffia è stato per lui di piacere scoperta. Il suono è percepito attraverso il canale uditivo ma vissuto anche a livello corporeo. In questo modo lo spazio diventa ascoltato, integrato, agito. La postura di Giordano è cambiata, non è più distesa a terra. Così il secondo ascolto in cuffia è diventato per lui di percezione ed analisi e sappiamo come la percezione sia un processo attivo e adattivo, integrato e complesso che consente alla stimolazione sensoriale di divenire nel tempo un'esperienza organizzata a favore dell'apprendimento. Il terzo ascolto in cuffia è stato infine per lui di controllo e verifica, necessario a riattivare processi analitici e ideativi e soprattutto ad inibire la reiterazione dell'errore. Quindi ho utilizzato l'olofonia per stabilire prima un luogo di incontro con il bambino e solo dopo ho proposto un lavoro di ascolto e di riconoscimento dei fonemi in maniera un po' più strutturata. La schermata fonemi e sillabe è stata proposta anche a Diego, un altro bambino con disturbo dello spettro autistico, al quale ho chiesto di rielaborare quanto ascoltato in cuffia attraverso la scheda in cui compare la A scritta in corsivo. Il suono è percepito a livello uditivo ma vissuto anche con quello prassico e articolatorio perché quel giorno Diego e io ci siamo seduti davanti allo specchio per lavorare su semplici pressi articolatori in modo da potergli offrire un feedback visivo quando gli ho chiesto davanti allo specchio di aprire bene la bocca e pronunciare la A. A quel suono, ascoltato in cuffia e articolato davanti allo specchio, è stato poi possibile attribuire una forma grafica convenzionale che si traduce nel grafema da scrivere prima, ripassando sul tratteggio, avendo la facilitazione dei puntini da unire e poi da provare a scrivere da solo in autonomia. Un'altra schermata utilizzata nel setting logopedico è quella del gioco dello schema corporeo. Sempre a Diego ho proposto di ascoltare attraverso le cuffie il nome di un segmento corporeo e di disegnarlo poi su un foglio bianco, chiedendogli di aspettare l'invio in cuffia del successivo stimolo sonoro da aggiungere al disegno per completare progressivamente lo schema corporeo. Molte volte Diego, ma anche altri bambini, quando sentono in cuffia la parola occhio oppure orecchio, li disegnano entrambi perché faticano a gestire l'impulsività e l'automatismo. Però, con la guida del terapeuta, che ridefinisce quanto ascoltato e contiene la tendenza all'impulsività, Diego è riuscito a disegnare l'intero schema corporeo, seguendo la progressione degli stimoli sonori ascoltati in cuffia e in questo modo è riuscito anche a tollerare la frustrazione che nasceva dall'attesa di ricevere gli stimoli progressivamente nel tempo e in generale in questo modo si promuove nel bambino l'inibizione delle risposte impulsive a favore della persistenza attentiva. Terminato il disegno dello schema corporeo, Diego è riuscito anche a colorare, seguendo le combinazioni delle parole scelte da me e quindi capelli marroni, maglietta verde, pantaloni rossi e scarpe blu. Ma la conquista di quel disegno fu il neo sul viso, incluso per la prima volta nei dettagli del volto, anche se non presente realmente sul viso di Diego, mentre Diego rifiutò categoricamente di disegnare gli occhiali sul disegno perché lui non li indossava. In un altro incontro con Diego ho suggerito l'ascolto in cuffia della favola olofonica del contadino e del vagabondo e poi ho proposto a Diego il collage e la scrittura come strumenti per la rielaborazione di quanto ascoltato. Ritagliare le immagini dei personaggi della favola per realizzare un collage ha incoraggiato Diego nell'uso delle forbici, potenziando la sua coordinazione occhio-mano e capacità organizzative come l'uso della colla, la gestione dello spazio foglio. Inoltre, fornirgli un supporto concreto come il collage realizzato da lui ha favorito il racconto sostenendo le capacità narrative, spesso deficitarie, perché interferite dalla presenza di segni clinici tipici del disturbo dello spettro autistico. Nell'incontro successivo, Diego ha realizzato il disegno di un'altra favola olofonica dal titolo Sette Sorsi e una paura. Dopo aver ascoltato la storia in cuffia, questa volta Diego è riuscito a rielaborarla graficamente, in parte in modo autonomo e in parte con il mio aiuto, ma dimostrando una maggiore attivazione ed iniziativa sia da un punto di vista grafico che verbale, iniziativa diversa e maggiore rispetto alla seduta precedente in cui aveva avuto la necessità di appoggiarsi al collage e alle parole scritte per poter raccontare la storia. Infatti le favole olofoniche sono preziose per stimolare la competenza ideativa-narrativa e l'organizzazione linguistico-espressiva nonché ricettiva. Il tempo passa, il livello di scolarizzazione avanza, per cui ho proposto a Diego la schermata degli animali per lavorare non solo sull'ascolto e riconoscimento dei versi degli animali che Diego conosceva perfettamente e amava molto, ma anche per promuovere la copia di intere etichette verbali dando diverse facilitazioni a livello viso-spaziale come il riquadro intorno alla parola e la linea sotto di esso, proprio come rinforzo sia a livello percettivo ma anche motivazionale ed esecutivo. Progressivamente queste facilitazioni e guide percettive sono diminuite perché nel tempo era migliorata la capacità di coordinazione occhio-mano che ha permesso a Diego di copiare le parole scritte da me sulla colonna di sinistra e trascritte da lui sulla riga accanto in modo autonomo. Ma soprattutto Diego aveva conquistato nel tempo un asset attentivo e comportamentale più adeguato perché l'insuccesso genera insuccesso, mentre il far bene e il rispecchiamento anche nell'altro della propria efficacia genera piacere di fare ed attiva nel bambino strategie di successo che solitamente incrementano la resilienza. Verso la fine della prima elementare è stato possibile per Diego completare una scheda tipo questa presente nella slide, sempre ascoltando in cuffia gli stimoli sonori selezionati dalla schermata fonemi e sillabe. Sillabe da inserire al posto giusto per completare la parola da poter poi pronunciare e leggere. Nel setting con Diego ho proprio potuto constatare quanto il suono ulofonico percepito come più realistico gli abbia consentito un più efficace trasferimento della struttura sonora e delle sue applicazioni in ambito cognitivo. Questo è il risultato finale del lavoro ulofonico proposto ad un altro bambino di 6 anni con sintomatologia moderata. Marco presentava, oltre i segni tipici del disturbo dello spettro autistico, anche importanti difficoltà prassiche, sia in termini di coordinazione dinamica generale che in termini di motricità fine. Ed inoltre le insegnanti a scuola riferivano dei tempi attentivi davvero brevi e discontinui. Nel tempo, e grazie ad un prezioso lavoro di equip e ad una efficace collaborazione con la scuola, Marco è riuscito nel setting logopedico, dopo aver ascoltato lo stimolo ulofonico del gioco dello schema corporeo, a indicare sul corpo le varie parti ascoltate in cuffia, colorare la sagoma e dopo averla ricomposta è riuscito anche a scrivere le parole ricopiandole. Ed infine ha utilizzato la sagoma ottenuta come modello di riferimento per disegnare il lumino. Quindi è riuscito anche ad aggiungere, come vedete, il collo, che è il cerchietto messo sotto lo alè del viso, collo che era stata l'unica parte in cui aveva avuto un po' più di difficoltà nel riconoscimento. E questo è un esempio di come l'olofonia abbia permesso a Marco, nel tempo, di prestare un'attenzione prolungata sullo stimolo condiviso per tutta la durata di quell'incontro. Il disegno presente in questa slide mi piace molto per come Giorgio, altro bambino con disturbo dello spettro autistico, ha disegnato la figura umana riuscendo ad includere progressivamente tutte le informazioni ricevute in cuffia, tanto da disegnare i piedi rosa e le scarpe rosse. ha prestato un ascolto fedele mantenendo un assetto di grande concentrazione per tutta la durata dell'attività, proprio perché nel setting terapeutico l'ascolto olofonico aiuta a costruire una rappresentazione mentale a partire dallo stimolo sensoriale con la rievocazione di immagini. Questo è un disegno bellissimo realizzato da Francesco, bambino con una diagnosi di disturbi misti dello sviluppo che rappresenta graficamente la storia ascoltata in cuffia del contadino e il vagabondo, copiando abilmente il fondale e i personaggi che posiziona in uno spazio prospettico in cui si percepisce il movimento e la spazialità sperimentate prima da Francesco nel muovere e nel far parlare i personaggi sull'ambiente durante l'ascolto della favola. Sappiamo bene che la tridimensionalità non è solo un'esperienza percettiva ma costitutiva dello stato emotivo della persona e Francesco aveva davvero partecipato attivamente all'ascolto e alla rielaborazione orale e grafica della storia. In questo caso il linguaggio diventa un evento tangibile di valore psichico e per usare una famosa espressione di Austin, gli atti di manipolazione linguistica si trasformano in uno scambio con l'altro dove è possibile fare cose con le parole e per riuscire a fare cose con le parole è necessario poter manipolare attivamente e linguisticamente le informazioni ascoltate sapendo stare nei sistemi che mediano affettivamente il linguaggio che solo allora diventa generativo. Questo è un altro disegno sempre della stessa favola olofonica ossia il contadino e il vagabondo realizzato però da un altro bambino di nome Alessandro che presentava una forte tendenza alla ripetitività e magnerismi sensoriali e chiusure che ostacolavano di molto la relazione con l'altro e limitavano la sua disponibilità verso la richiesta. L'impiego dell'olofonia ha permesso un buon aggancio motivazionale e un'attivazione attentiva insolita per Alessandro e ciò gli ha consentito di riuscire a condividere l'attività terapeutica con l'altro bambino presente nella coppia logopedica e questo disegno è rappresentativo di un'apertura sia nei confronti della condivisione ma anche di una diminuzione della rigidità di pensiero che spesso portava Alessandro a ripetere sempre gli stessi schemi grafici con temi ristretti ed è presente anche una reiterazione del tratto grafico con ricerca sensoriale espressa dal bambino nel ripassare tante volte i contorni degli occhi che come vedete sono questi pallini neri riempiti di colore tanto che in alcuni casi bucava il foglio. Il bambino con la felpa arancione è Alessandro, intenta scrivere la storia oleofonica di Sette Sorsi e una paura precedentemente ascoltata in cuffia. Vicino a lui siede Mahir, l'altro bambino presente nella coppia logopedica, entrambi prestano ascolto al dettato del terapeuta. Il terapeuta può fare una sintesi della storia semplificata ascoltata oppure utilizzare il copione scritto perché negli allegati oltre il materiale operativo insieme agli ambienti e ai personaggi delle favole ci sono anche i copioni scritti. Nell'incontro successivo Alessandro ha accettato con immediatezza, senza grandi reazioni di rifiuto e di evitamento, di realizzare il disegno che vedete a destra della storia ascoltata e scritta la volta precedente, riuscendo così a mantenere una continuità tra un incontro e l'altro perché ciò che comincia come una piacevole scoperta si può trasformare in un'area di interesse e di attenzione. Il copione scritto della favola può essere letto dal bambino stesso se è in grado di farlo oppure sarà l'adulto che leggerà al suo posto perché sappiamo bene che il bambino apprende non solo perché è esposto allo stimolo ma anche e soprattutto perché tra lui e lo stimolo si inserisce una figura, un terapeuta nel setting, un genitore a casa, un'insegnante a scuola, un altro bambino che svolge la funzione di tutoring e che svolge la preziosa funzione del mediatore. Il copione da leggere consente di dare voce ai personaggi in una drammatizzazione attiva che può essere condivisa con gli altri bambini presenti nel setting di terapia o anche con i compagni di classe a scuola, motivando in questo modo il bambino con difficoltà all'uso di competenze come la letto scrittura e solo in questo caso e in questo modo l'attenzione all'ascolto arriva e si attiva nel bambino con disturbo dello spettro autistico come spinta motivazionale di adattamento e condivisione e non solo come risposta adesiva alla richiesta dell'altro. Per concludere vi lascio con alcune delle tante immagini che raccontano quanto l'olofonia sia uno strumento terapeutico prezioso perché la tridimensionalità del suono olofonico favorisce non solo l'attenzione all'ascolto ma anche la condivisione, l'emozione e la cognizione. Grazie. Lascio ora la parola alla collega Silvia Santurro. Buongiorno a tutti, sono Silvia Santurro, una logopedista psicomotricista dell'Istituto di Ortofonologia e oggi vi parlerò dell'olofonia come uno strumento in modalità operativa all'interno del setting logopedico. Come già vi ha detto e vi ha spiegato la dottoressa Sara Rocco, attraverso l'utilizzo dei quadernoni è possibile svolgere molti lavori terapeutici. Io invece vi mostrerò dei video che vi fanno magari vedere in maniera più concreta il lavoro che è stato possibile effettuare attraverso l'utilizzo dell'olofonia. L'ascolto tridimensionale mediante l'uso delle cuffie è da ausilio al raggiungimento di una moltiplicità di obiettivi. La ricchezza infatti degli stimoli sonori e la plasticità del materiale permette in base alla creatività del terapeuta di lavorare su più fronti e su più obiettivi in base a quello che il bambino e il terapista porta anche nel setting proprio in quella determinata giornata. Gli obiettivi principali che vedrete nei video e sui quali sono andata a lavorare con quei bambini sono sicuramente il potenziamento dell'attività attentiva e la capacità di restare a svolgere un lavoro strutturato al tavolo per un lungo tempo perché diciamo che lo strumento dell'olofonia attraverso l'uso delle cuffie permette di prolungare l'attenzione del bambino e di catturarla e quindi anche attività che proposte in un'altra modalità potrebbero risultare noiose o comunque essere rifiutate dal bambino vengono invece svolgere con piacere e motivazione proprio perché catturati da questo strumento del suono che arriva in cuffia. Si va sicuramente a lavorare anche sull'implemento della funzione esecutiva dell'inibizione correlata al prolungamento dei tempi di attesa in quanto spesso questo lavoro viene fatto anche in dei gruppi o in dei piccoli coppie quindi il bambino deve in qualche modo inibire la risposta che impulsivamente gli verrebbe da dare appena sente lo stimolo sonoro se lo riconosce e in più deve anche rispettare appunto il turno quindi tutto questo sicuramente d'ausilio ai tempi di attesa. Poi si va a lavorare sulla maggiore consapevolezza di sé e del proprio schema corporeo perché attraverso l'uso delle cuffie noi possiamo sentire il suono che arriva soltanto all'orecchio destro, all'orecchio sinistro, dietro alla nostra testa, nella diagonale e quindi cominciamo proprio ad avere un'attenzione maggiore, una consapevolezza del nostro corpo, del nostro orecchio e questo anche grazie all'ausilio del terapista che può chiedere al bambino ma qual è l'orecchio destro, dove l'hai sentito, qual è il tuo braccio destro, qual è il mio, qual è la destra sul foglio e quindi si lavora proprio in maniera specifica sull'organizzazione spaziale. Si può lavorare sui prerequisiti per l'apprendimento della letto scrittura perché abbiamo delle schermate dove ci sono soltanto i fonemi da ascoltare e quindi ascolto il fonema, lo articolo e poi magari lo scrivo o la sillaba o la fusione di due sillabe semplici per formare una parola o l'ascolto direttamente delle parole e si lavora anche sui prerequisiti per l'apprendimento della scrittura e sulla scrittura quando magari il bambino viene fatto sentire lo stimolo sonoro, lui lo riconosce e poi lo va a scrivere e si lavora anche sulla competenza comunicativa potenziando l'iniziativa verbale, le correlazioni logico-deduttive tra gli eventi esplicite ed implicite e la pragmatica. Questo perché ad esempio utilizzando le favole sonore si va a lavorare intanto sull'ascolto e sulla comprensione e poi sulla successiva narrazione soffermandoci sia su quello che è il contesto e quindi quello che il bambino ha ascoltato sia su delle ipotesi che si possono fare insieme a lui e quindi proprio lavorare su un'area più simbolica, più astratta e più logico-deduttiva facendogli proprio delle domande dicendo ma secondo te perché è successo questo? Ma tu cosa avresti fatto? Ma come potrebbe cambiare la storia e continuare? Quindi inoltre l'olofonia permette di lavorare su più aree in quanto è possibile passare da una schermata all'altra quindi dalla schermata dei fonemi, gli stimoli sonori, le favole e da un piano più statico seduti al tavolo ad uno più dinamico muovendosi nelle direzioni spaziali ascoltate. Nella stessa seduta in base a quello che il terapista e il bambino portano nel setting si possono creare delle situazioni diverse e lavorare su obiettivi diversi. Sappiamo infatti quanto sia importante avere degli obiettivi chiari da raggiungere ma non meno importante è la capacità del terapista di essere flessibile e attento a modificare l'attività in base a quello che a livello psicodinamico avviene nella relazione terapeutica o a dare significato e decodificare un messaggio verbale e non che il bambino manifesta. Ora passerò a mostrarvi i video e li commenterò per mostrarvi proprio gli obiettivi sui quali sono andata a lavorare e anche l'assetto che cambia dei bambini in base a quando ascoltano il cuffio e quindi magari fanno anche un lavoro più esecutivo rispetto a quando gli si chiede di essere più creativi o più simbolici. È doveroso spiegare che molti di questi video sono stati girati prima della pandemia e quindi proprio per questo sia io che i bambini eravamo senza mascherina. In questo primo video sono presenti due bambini che hanno una sintomatologia dello spettro autistico di grado lieve. Sono entrambi all'ultimo anno della scuola materna e hanno dei comportamenti differenti e anche delle fragilità invece simili. Per quanto riguarda le fragilità sono proprio rispetto all'aspetto più grafo motorio e al fatto che loro rifiutino questa attività delegando e dicendolo lo fai tu o chiudendosi. Nell'altro caso invece la caratteristica differente è che uno dei bambini vuole sempre primeggiare a difficoltà, tollerare la frustrazione e anche ad autoregolarsi, mentre l'altro bambino quando ha una difficoltà tende ad avere un atteggiamento positivo o passivo e si chiude. Quindi ho pensato di proporre l'attività di olofonia per lavorare sull'associazione Fonem Grafema intanto per attirare la loro attenzione, quindi per prolungare la loro attenzione su questo stimolo per un periodo lungo di tempo e farli rimanere comunque seduti al tavolo. Quindi nella prima parte, nel primo video vedremo questa situazione, nella seconda parte vedremo come cercherò di farli avvicinare anche all'aspetto più grafo motorio alla coordinazione oculomanuale al fatto di colorare queste letterine e si può partire con il primo video. Quale letterina adesso uscirà? Vedete come in questa attività loro lavorano anche sulla titolazione corretta del fonema che abbiamo aspettato perché io chiedo sempre che cosa avete sentito? Vedete anche quello che dicevo rispetto ai tempi di attesa e al turno. Ho detto la. E lei? Sì. Ma che ha detto? Ah l'ho fatto io. Bravo! E adesso? Adesso? Aspettate! È troppo facile così. Ecco! il bambino. Il bambino dice che potrebbe essere la A ma lui mette altre lettere proprio perché voglio lavorare sul riconoscimento quindi non soltanto sull'associazione. vedete come ecco attraverso l'utilizzo delle cuffie restano belli attenti. vedete come ecco anche il bambino che ha una difficoltà anche a livello proprio fa un articolatorio e presenta soprattutto tetacismo prova ad articolare la R. Sicuramente con un altro tipo di attività soltanto richiestiva lui non l'avrebbe fatto. aspetta! Aspetta! No io io! Aspetta! 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 Eccola la ma! Ecco qui! Adesso possiamo interrompere questo video. No! Metto questa! No! Metteramma dentro! Aspetta! 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 A metto! Aspetta! Un momento che qua ti aggiungo eh! ah! Non lo so! Eh non lo so! Aspetta! Possiamo fermare il video, grazie! Ehm... sempre con questi due bambini nella stessa seduta, il lavoro successivo è stato quello proprio di ricalcare le letterine classificate che loro avevano riconosciuto, vedrete nel video come sono io che le ricalco all'inizio, gli chiedo poi però a voi di colorate e loro dicono di sì, accettano e quindi quello è stato un primo avvicinamento proprio all'attività più grafomotoria senza rifiuto netto, possiamo vedere il video facciamo che te la faccio io e dopo tu la colori dentro H per me Guarda un po', bella, e adesso quale faccio per te? Per te Quella, è difficile farlo, non ti preoccupare, lo faccio io perché questa è un po' difficile perché è un po' piccola vedete, almeno comunque catturo l'attenzione dello sguardo, quindi proprio no, l'esplorazione visiva, ancora non chiedo a loro di farlo, anche se un bambino sta cominciando a provarci da solo senza la mia richiesta ricalcare e ora finalmente colorano Vedete anche, diciamo, la difficoltà proprio nella prensione dello strumento da parte di uno dei due bambini, ma appunto lui è un bambino che ha avuto sempre un rifiuto ad utilizzare proprio, no, le sue mani, la motricità fine per svolgere delle attività in autonomia qui sto lavorando un pochino anche sull'organizzazione spaziale perché chiedo proprio al bambino dove te la disegno la lettera a destra, a sinistra, in alto, in basso In questo, diciamo, pezzettino di video si è visto come appunto il bambino tende a mettere in atto quell'atteggiamento di chiusura oppositiva e passiva in cui non ti guarda più a livello corporeo si chiude e ti fa capire che non vuole fare quell'attività perché per lui è difficile Questo è un po' quello che succedeva molto spesso presentando e chiedendo di fare questo tipo di attività proprio per questo intanto gli dico di verbalizzare e quindi non soltanto di chiudersi ma di dirmi di aiutarlo perché era difficile e intanto ecco l'utilizzo delle cuffie prima e dell'ascolto mi hanno permesso di lavorare un pochino di più su questa sua chiusura verso tale attività Nei video invece che adesso andremo a presentare vi mostro due bambini che sono in seconda elementare presentano una sintomatologia di grado lieve e moderato dello spettro autistico hanno un'apertura relazionale e anche una competenza comunicativa presentando comunque dei tratti uno più di rigidità e l'altro più di ecolalia differita Nei video che andiamo a vedere voglio lavorare intanto sull'aderenza al contesto per entrambi e anche la flessibilità passando da un'attività all'altra Quindi all'inizio chiederò di disegnare quello che loro ascoltano utilizzando la schermata dello schema corporeo quindi loro sentiranno delle parti del corpo che devono disegnare dopodiché lavorerò sugli accessori che si possono utilizzare quindi sugli abiti o sulle scarpe e andranno sempre a disegnarli poi lavoreremo sul colore quindi associeranno quello che hanno sentito e andranno a colorare la maglietta di quel colore e successivamente passerò all'associazione fonema grafema facendogli ascoltare i suoni e poi facendo la fusione arriveranno al nome del personaggio e nell'ultima parte mostrerò come nella mia richiesta di far comunicare questi due personaggi emergano maggiormente le loro difficoltà sociopragmatiche e relazionali in quanto non agganciati più a un concreto e a un esecutivo si perdono e non sono in grado comunque di lavorare su un dialogo e un racconto e quindi questa è la spiegazione dei due video che adesso andremo a vedere e possiamo iniziare a vedere la prima parte ho lavorato anche sul proprio riconoscimento di qual è il tuo orecchio sinistro una donna, una bambina, una bambina, un ragazzo e una ragazza, va bene? e questo lo dovete solo scrivere, non lo dovete disegnare, va bene? siete pronti? sì, molto bene facciamo questa prova ed è un ragazzo ragazzo se la stessa cosa l'avessi detta io senza l'utilizzo dello strumento lofonico e delle cuffie sicuramente non avrei ottenuto lo stesso entusiasmo quindi lo strumento aiuta proprio per questo perché lo stimolo sonoro arriva chiaramente nell'orecchio tu sei un ragazzo o sei un bambino? però l'altro nel disegno stai facendo il ragazzo vedete come anche no la difficoltà di passare dal fatto di essere sono un ragazzo, io sono un ragazzo quindi no, tu non sei un ragazzo devi disegnare il ragazzo e adesso passiamo proprio anche a colorare le varie parti ascoltate guardate come sono attenti uno dei due si tiene le cuffie per ascoltare meglio l'altro più degli occhi per essere proprio concentrato solo la testa, no gli occhi e la barba questa qui solo la faccia la faccia tutta quanta sì perché la testa la faccia metti la matita potete riprendere la matita perché dobbiamo adesso vestire questo ragazzo vediamo se c'ha la camicia se c'ha la maglietta ok, anche in questo caso proprio lavorare come dicevo prima sulla flessibilità e sul fatto di cambiare attività quindi scrivo disegno coloro e ora passiamo alla parte in cui dovranno scrivere il nome e poi un pochino dialogare tra di loro quindi possiamo passare al prossimo video che bel ragazzo quello sembra una specie di pirata e quello di anima è un ragazzo grande adesso dobbiamo scoprire come si chiama ascoltate le lettere e formeremo il nome ok? sì ora vedrete anche quanto uno dei due bambini sarà molto contento quando ascoltando le lettere scoprirà che il nome che lui aveva ipotizzato a Roberto era proprio quello e adesso anche Gabriele saprà come si chiama il suo personaggio tenete conto che questa attività è durata dall'inizio almeno un'ora hanno temuto veramente molto vedete come adesso io chiedo di parlare ma non riescono a fare il dialogo come avete potuto vedere nell'attività con le cuffie in cui ascoltavano le varie parti dello schema corporeo le disegnavano erano molto concentrati e contestuali nell'attività più simbolica hanno avuto delle difficoltà ma tutto il lavoro fatto prima sicuramente è d'ausilio poi proprio a rimanere di più nel contesto e ad arrivare anche di più al simbolico e nell'ultimo video invece che vado a mostrarvi c'è un bambino che è all'ultimo anno della scuola materna è un bambino che presenta sintomatologia dello spettro autistico di grado lieve e ha avuto una buona evoluzione e lavoro utilizzando una favola sonora con questo bambino perché il mio obiettivo principale è sia la comprensione della storia ascoltata ma soprattutto l'iniziativa perché questo bambino tende proprio ad essere molto passivo, esecutivo a non prendere iniziativa né in verbale né per risolvere un problem solving quindi vedrete come appunto nel video lui rimane comunque nel contesto attraverso l'utilizzo delle cuffie e l'ascolto della storia però ha bisogno del mio aiuto per rispondere e formulare delle frasi un pochino più lunghe e soprattutto fare dei collegamenti logico-deduttivi possiamo vedere il video forse con il fatto delle mascherine dobbiamo alzare un pochino il volume Fanno qualcosa? Sì Ma è dove vivono? Che fanno una gara Quindi è il posto della gara Senti, mi vuoi dire un po' questi qua chi sono? Questi disegni bellissimi che hai fatto tu? Fanno parte della storia questi Diego? Storia? Sì Quindi sono i personaggi Lui ha disegnato anche tutti i personaggi quindi ho lavorato anche sull'aspetto proprio dell'attività grafica Dov'è la remata? Non ho vista Ecco Cosa? Si è attaccata al dito Carina Poi? Me li sta descrivendo quindi lavoro un pochino anche sul linguaggio in quanto magari non articola correttamente la parola scia e quindi io l'aiuto un po' su questo E poi iniziamo con l'ascolto proprio della storia Il bambino prende in mano il personaggio che sta ascoltando e lo mette nell'ambiente Io lo aiuto un pochino perché un personaggio è a destra non a sinistra e quindi lo aiuto facendogli capire che li deve prendere e posizionare nello spazio in base a dove l'ha sentiti L'attenzione io interrompo La pulce da dove deve partire? Insieme alla rumata davanti o dietro? Dietro ma secondo te c'è un'idea l'animata? Sì Ma diciamo aspettiamo vediamo che succede Vedete come la frase è proprio molto contratta e Diego risponde quasi sempre utilizzando una parola e quindi questa attività lo aiuta proprio ad ampliare questo suo linguaggio soprattutto su attività strutturate La pulce è rimasta bloccata dalla scia È rimasta bloccata? Sì Ma perché è rimasta bloccata? Perché la rumacca è la più furba Ah e perché la scia la blocca Diego? Perché è appiccicosa Stata meglio dalla rumacca Ma come mai? Perché è stanchissima È stanchissima perché lei che va lenta lenta per fare tutto questo tragitto e girare si è stancata molto E invece lei Guardate insomma come questa storia viene dettagliatamente spiegata e raccontata e lui è sempre lì comunque mantiene l'aderenza al contesto Qualcuno l'aiuta? Per il momento questi che stanno facendo la stanno addirittura prendendo in giro Io continuo a fargli tutte queste domande cercando di lavorare proprio anche su la logica e non rimanere soltanto sul concreto su quello che lui ha ascoltato e basta ma anche no ipotizzare cosa che gli può dire poteva fare questa pulce Mi dispiace di averti preso in giro Perché è lenta con una rumaca Perché è lenta con una rumaca perché sei una rumaca però ho capito che sei anche molto lenta ma sei anche molto furba è furba quindi uno può essere lento e però può avere altre qualità eh quindi la storia penso che finirà proprio così vero? vero va bene Ecco e questi sono soltanto di alcuni esempi di tutte le attività che con olofonia si possono svolgere ehm ho scelto di farvi vedere queste attività più strutturate più al tavolo più sull'apprendimento ma come già detto all'inizio ehm lo strumento permette anche di muoversi nella stanza quindi eh di stare in piedi di spostarsi in base a dove si sente il suono e poi si possono anche costruire gli ambienti ascoltati si possono eh diciamo drammatizzare eh i personaggi della storia quindi ehm la plasticità come detto proprio all'inizio di eh e la ricchezza di stimoli ehm di questo strumento permettono di lavorare in molti modi e maniere la cosa ehm importante è che ehm gli stimoli sonori sono reali quindi la registrazione effettuata eh ti immerge proprio nella situazione reale perché sei proprio in quella situazione quindi a volte quando dice sembra che sto nella stazione eh realmente quei suoni sono stati registrati in una stazione quindi sono proprio reali e questo permettono eh al bambino di mantenere proprio l'attenzione per un lungo periodo e io ho terminato il mio intervento vi ringrazio è